Ben ritrovati, ridiamo la parola a Vincenzo e continuiamo con l'argomento di stamattina. Che era quello di... adesso posso? Eh no, adesso mi viene in mente un monologo. Continuo? Dove devi stronzare? Sì. Quale preferisci? Quello a Elena o quello ad Alessandro Magno? Elena. Elena. C'era un monologo a Elena. Quando a un certo punto arriva Vincenzo e dice non è forse questo il volto che mosse mille navi e giunse alle alte torri d'Ilio? Ilio? Scusa. Bravo! Stavamo in un metro a spazio. Ragazzi, cinque euro a testa, grazie. Non ci ha messo manco l'intenzione. Un euro per ogni secondo della durata del monologo. Beh, bentornati. Questa è proprio la controora, no? Di sabato. Però non riusciamo a finire prima di amici. Allora, la chiave di tutto quello che ci siamo detti in queste ormai nove ore, adesso ne faremo altre due e mezzo più o meno, no? E' la curiosità. Se uno non è curioso, non impara niente. Chiaramente la curiosità poi è una leva che si muove quando c'è qualcosa che appassiona qualcuno. Se io non sono appassionato, perché dovrei essere curioso di approfondire un tema o una cosa? I laboratori dal basso partono proprio con questa logica. Voi quando vi hanno chiamato, vi hanno detto, dovete partecipare due giorni ai laboratori dal basso. Vi siete chiesti? E che diavine sono i laboratori dal basso? Qualcuno è andato a vedere qualcosa, è andato ad approfondire. Eppure il nome, Laboratori dal basso. E come funzionano i laboratori dal basso? Perché quei cretini del teatro sospeso hanno fatto i laboratori dal basso? Eppure è un progetto dove non ci si guadagna nulla. Cioè, i cretini del teatro sospeso l'hanno fatto assolutamente gratuitamente. Quello è un bando molto diverso, ad esempio, da quello che abbiamo studiato questa mattina come impostazione. Perché? Dice, tu sei appassionata del settore teatrale o del mondo dello spettacolo. Vuoi approfondire dei temi, vuoi conoscere delle persone. Chiamo quelli che secondo me sono appunto delle persone competenti. E la regione mi consente di farlo perché i costi di questi incontri li sostiene la regione anziché il teatro sospeso. Il teatro sospeso che ci mette da parte sua. Io ve l'ho sempre detto, anche se è un lavoro gratuito, quel lavoro che significa ore destinate e regalate a questa cosa, hanno un valore, quando voi fate qualcosa, state dando il vostro tempo a quello che state facendo. Se state cazzeggiando, state regalando del tempo al cazzeggio. Che va bene, ci deve essere sempre un po' di tempo per il cazzeggio, ma attenzione, anche perché non è che uno ha un'idea, perché sta lì con la testa subito e basta, ha un'idea anche in un momento di assoluto, magari in cui sta dormendo, o semplicemente sta chiacchierando con un amico, si sta confrontando su un argomento e sta bevendo un bicchier d'acqua o un succo di frutta. Detto questo, la curiosità è quello su cui si muove tutto, perché se uno non è curioso non impara, e se non impara non è pronto a rispondere a poi quello che è il contesto in cui si va a muovere. Quindi se io non sono curioso, non leggo il bando, non mi interessa il tema, non mi interessa conoscere persone, rimango chiuso nel mio guscio, faccio quello che ritengo giusto per me, ma non mi relaziono mai con quello che mi sta intorno. Essere curiosi ti stimola, cioè ti dà la possibilità di confrontarti sempre con chi ti sta a fianco e con quello che c'è intorno a te. Allora, il teatro sospeso dice, Domenico, con tutti i ragazzi del teatro sospeso, dicono, hanno pubblicato il bando Laboratori dal Basso. Gliel'avrà detto un'amica al bar? Non lo so. L'avrà trovato lui su internet? Non lo so. Qualcuno l'ha stimolato, se l'è trovato da solo, non lo sappiamo. Però a un certo punto dice, Laboratori dal Basso, vabbè, questi mi danno, che ne so, 100 euro per chiamare due o tre persone che mi vengono a dire delle cose, e io devo stare lì a fare le telefonate, devo stare lì a contattare le persone, a capire dove lo devo realizzare, a capire come lo posso fare, devo coinvolgere la professoressa Elena, che a sua volta deve coinvolgere i ragazzi che dicono, ma che so, questi Laboratori dal Basso, magari devo coinvolgere lei, che convince voi, che poi convincete i vostri genitori, che dovete stare fuori, non potete vedere Amici, non potete vedere Luca Argentero quando c'è un film. Perché lo dovrei fare? Uno si chiede il perché. Quello è una fase di investimento, un investimento non economico, perché non stanno mettendo dei soldi, però che ha un valore economico, in quanto avranno sprecato, diciamo sprecato in senso dispregiativo, 50 ore per organizzare tutto questo. Il motivo di tutto ciò, da una parte si muove perché c'è una curiosità di base, cioè io voglio, come dire, mi voglio professionalizzare in un argomento, cerco di contattare le persone che possono approfondire quell'argomento in maniera tale che io possa fare un passo in avanti e crescere. Da una parte coinvolgere, perché questo è l'altro livello, anche delle persone che forse su 20 ce n'è uno che dice, beh, questa giornata non è stata proprio persa, qualcosa di interessante mi è rimasto. Ed è un investimento anche quello. Ora, questo modo di agire, i laboratori dal basso, è quello che ha fatto il teatro sospeso, che per molti nel momento in cui non c'è un ritorno economico immediato è uno spreco di tempo e invece deve essere considerato uno degli investimenti che si fanno. Perché investire non significa soltanto mettere dei soldi e poi far sì che quei soldi diventino di più. Significa anche mettere delle energie e utilizzare tutti i sistemi che ho per poter promuovere quello che faccio e conoscere e far conoscere agli altri quello che succede. Non è che io arrivo stamattina, dicevamo, alle 100 gallerie d'arte così, mi devo muovere, devo conoscere il territorio, devo conoscere le persone. Uno dei meccanismi con i quali queste cose avvengono, ad esempio, il laboratorio dal basso. Allora, fare questa cosa che è apparentemente inutile e non porta a nulla, come dire, immediatamente, magari ha dei riscontri positivi in futuro. Io non conoscevo il teatro sospeso prima del laboratorio dal basso e il teatro sospeso non conoscevo il teatro chismet, cioè ci conoscevamo di nome. No, noi conoscevamo lui. Su questo è sicuro. Loro conoscevano, noi giustamente ci hanno contattato, noi conoscevamo molto poco loro, io non avevo mai parlato con nessuno di loro, è comunque un patrimonio mio che è cresciuto, così è un patrimonio suo ed è diventato un patrimonio di un gruppo di persone. Ora, probabilmente, di sei giornate di incontri che sono stati fatti, a qualcuno è interessato più una, a qualcuno è interessato più un altro, a qualcuno non è interessato nessuno, però se c'è una gemma che poi comunque viene piantata e può diventare un seme, può diventare un fiore, può essere un investimento che non solo porta effetti positivi a Teatro Sospeso, al Teatro Chismet, al Laboratorio Urbano, ma anche a chi ha partecipato a queste cose. E magari la prossima volta che lui fa uno spettacolo, io faccio uno spettacolo, uno di voi dice ma questo mi ha rotto le scatole per 18 ore, voglio proprio vedere lui che cosa fa, sono curioso di vedere che cosa fa e che cosa propone. Cioè tutte le chiacchiere che ha detto, poi quando diventano concrete, che cosa sono? Oggi vi ho dato un piccolo assaggio con un trailer di due minuti, però magari vi verrà la curiosità se il Teatro Chismet viene ad Andria quando riapriranno il teatro, se me lo riapriranno, magari uno di voi dice sono curioso di vedere che cosa succede. Ora non è che io voglio convincere che il teatro, perché quello è il mio lavoro, lo spettacolo dal vivo, soprattutto il teatro è una cosa importantissima per ognuno di voi, perché magari c'è qualcuno che è appassionato o qualcun altro non gliene frega nulla, né di farlo e né di semplicemente vederlo, fare da spettatore. Però una cosa cosa ve la posso dire? Io vi ho detto quando sono arrivato ieri mattina qual è stato il mio percorso, cioè io non c'entravo nulla col teatro. Quando sono arrivato al Teatro Chismet a un certo punto dopo un anno e mezzo mi sono detto vabbè, ho capito benissimo quello che succede da questa parte, quindi quello che succede a livello organizzativo, il botteghino, il personale di sale, eccetera, eccetera. Ma che cosa succede dall'altra parte? E ho deciso di partecipare a un laboratorio teatrale. Allora, innanzitutto, a livello umano vi posso garantire che sono cresciuto molto perché partecipare a un laboratorio teatrale ti dà l'opportunità di capire e di mettere in moto i sensi che di solito sono sopiti. Cioè, tu quando sei su un palco insieme ad altre persone devi avere, ad esempio, lo sguardo aperto perché nel momento in cui si muove uno tu ti devi muovere di conseguenza. Se stai fermo e lui sta venendo verso di te e non ti sposti magari ti urti in scena mentre stai facendo lo spettacolo e la gente se ne accorge. Questa è una cosa che uno fa spontaneamente ma nel momento in cui la fai in un laboratorio teatrale l'utilizzo della voce la predisposizione è anche a parlare in pubblico. Io non sono nato per parlare in pubblico mi faccio mille seghe mentali non so mai se quello che sto dicendo lo sto dicendo innanzitutto in un italiano perfetto se lo sto dicendo con un tono di voce giusto perché magari all'ultima fila non si sente se lo sto dicendo come dire a livello di movimenti corporei nel modo giusto per farlo arrivare esattamente così come io vorrei un laboratorio teatrale che ormai ho fatto 15 anni fa sicuramente ti aiuta in questo quindi a relazionarti alle persone e soprattutto nel far arrivare a quelle persone quello che veramente tu gli vuoi comunicare che non glielo comunichi solo con le parole glielo comunichi anche con i gesti e soprattutto anche a capire quello che avviene intorno a te e quando parlo di spazio aperto io sto vedendo lui che sta facendo le foto anche se non lo sto guardando e sto vedendo lui che magari sbadiglia perché sto dicendo una cavolata ora questo è quello che è il mio come dire la mia passione da cui nasce tutta la curiosità rispetto al teatro e l'ho scoperta vivendolo l'ho scoperta prima sono stato fortunato in questo ed è il modo con cui noi ci siamo sempre relazionati che è esattamente la logica del laboratorio dal basso noi lo facevamo in autonomia adesso ci sono dei fondi bravo chi intercetta quei fondi e fa delle cose a costo zero ma con un investimento personale anche importante perché solo io mi sono scocciato di sentire Domenico Tacchi del teatro sospeso che mi telefonava dieci volte al giorno finché non gli rispondevo ha voglia di dirgli sono al ministero sono al comune a parlare col sindaco lui mi telefonava in continuazione questa è la base di tutto se non c'è la curiosità che è dettata da una passione vuol dire che state facendo la cosa sbagliata perché probabilmente come vi ho detto se un giorno qualcuno di voi andrà alle poste a lavorare sarà lì a sbuffare non gli piacerà quello che fa non si relazionerà bene con le persone devi trovare il tuo modo di stare nelle cose perché c'è qualcuno invece che magari si diverte tantissimo a lavorare dietro lo sportello delle poste e qualcun altro che non è portato a fare una cosa del genere voi dovete trovare quello per cui siete portati questa è un'occasione una delle tante che ci possono essere però dovete cercarvele ora noi abbiamo fatto tantissimi ragionamenti su quello che possono essere i progetti i bandi come trovare risorse come non trovarle dobbiamo capire anche quali possono essere potenzialmente come dire quei sostegni che possono arrivare attraverso anche queste modalità mi spiego meglio io sono il teatro Kismet è la struttura privata culturale più importante o tra le più importanti nel meridione in Puglia sono un'istituzione culturale con mille difficoltà dettate anche da una situazione economica in cui proprio i primi ad avere difficoltà sono gli enti che chiaramente poi riversano le loro difficoltà sui cittadini perché se l'ente in difficoltà aumenta le tasse poi si ripercuote su ognuno di noi perché pagando più tasse e meno soldi poi da investire nel teatro nel cinema nel tempo libero e alla fine non fai altro che stare in casa chiuso nella tua camera a vedere la televisione o sul computer avere un pochino più di economia significa anche potersi dare la possibilità di fare altro e di vedere altro ci sono però delle occasioni in cui non servono le economie cioè incontrarsi e ideare una cosa un progetto una qualsiasi cosa non è un investimento economico è un investimento di tempo è quello che io mi invito a fare tutti i giorni cioè fatelo il più possibile chi non lo vuole fare se ne sta a casa sua chi invece ha voglia di confrontarsi e crescere lo facesse ora perché ho fatto questo ragionamento perché nel momento in cui non ci sono i bandi uno dice e voglio dire non è che io non lo faccia lo farete voi lo faccio io lo farà anche lui non ci sono bandi non ci sono possibilità sto fermo vabbè allora uno aspetta che venga pubblicato un bando da un ministero qualsiasi da una regione o da un comune per fare qualcosa e aspetta lì così io vi ho detto stamattina prendete l'abitudine di informarvi quindi andate in determinati siti e cercate 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 quella è solo una parte l'altra parte è quella che invece voi potete fare come dire in autonomia cioè il vostro destino lo dovete costruire voi sono partito dicendo stamattina che è un progetto io decido di realizzarlo a prescindere se trovo altro tipo di fonti economiche è meglio se non le trovo ci devo rischiare tutto di mio se ci credo e sono il primo a crederci forse sono convincente perché se ci credo io magari riesco a convincere lui se non ci credo io per prima sto aspettando che un ente mi dia dei soldi lui dice fratello mio se non ci credi tu e stai aspettando che arriva Godot cioè probabilmente questa cosa non la realizzerai mai ora vi ho detto questi sono gli ultimi bandi di questa amministrazione regionale non sappiamo chissà li faranno non li rifaranno verranno ripubblicati ma non sono le uniche opportunità ci sono anche quelle opportunità che si costruiscono in questo tipo di incontri perché sono il chies le risorse che ho sono sicuramente uno spazio sicuramente attrezzature sicuramente competenze queste si chiamano risorse risorse umane risorse tecniche poi ci sono quelle economiche però ho delle cose che posso utilizzare io ma che posso far utilizzare anche ad altri allora se tu vuoi fare uno spettacolo teatrale voi due volete fare uno spettacolo teatrale vi piacerebbe non avete però i soldi per comprare i fari i fari servono per illuminarvi perché se fate uno spettacolo al buio non vi vede nessuno allora la gente non solo deve sentire vi deve anche vedere e avete bisogno di uno spazio dove provare quello spettacolo teatrale e magari qualcuno che sappia pure utilizzare i fari che devono servire a illuminarvi e magari qualcuno che faccia anche una locandina e dica ci sono come vi chiamate? Angela e Nunzia in scena ho detto bene Nunzia questa è una cosa che vabbè lo faremo lo spettacolo ma non lo stavo dicendo per scherzo poi l'anno prossimo ci incontriamo quando siete maggiorenni è praticamente come dire tutte quelle risorse immateriali si chiamano così che io posso mettere a disposizione di un gruppo di giovani artisti ad esempio il Kismet prima lo citavamo perché noi ora stiamo parlando della gestione delle risorse di come si porta avanti un progetto in mancanza di soldi se c'è un gruppo di giovani artisti che vuole fare una cosa e non ci sono bandi che cosa fa? non fa più niente o decide di andare avanti con la sua idea? io penso che se ci crede deve portare avanti la sua idea e se la porta avanti deve iniziare a ragionare con quello che è il contesto che magari le persone che ha conosciuto in situazioni ad esempio come queste allora io non so ad esempio tra di voi se c'è qualcuno che ha qualche talento particolare però magari conoscendoci scopro che c'è qualcuno di voi che ha un talento e forse a me quel talento serve nel prossimo spettacolo oppure lo scopre il teatro sospeso e quindi magari un incontro casuale di un incontro di questo tipo poi porta ad avere delle occasioni delle opportunità faccio entro nel merito di quando parliamo di imprenditoria il chismet ha sempre sostenuto una visione di gestione che sia condivisa con le persone e con i colleghi chiaramente adesso ci sono dei bandi domani non ci sono dei bandi e arriva un gruppo teatrale da noi ce ne sono alcuni tipo fibre parallele sono ragazzi che hanno meno di 30 anni che hanno vinto anche dei premi nazionali e internazionali che hanno iniziato a lavorare quando avevano 22 anni quindi qualche anno più di voi loro quando sono partiti non esistevano forme di contributo o bandi poi ci sono nati bandi adesso si stopperanno nuovamente che hanno fatto hanno comunque fatto il loro spettacolo e hanno investito del tempo perché non si sono pagati quando hanno prodotto il primo spettacolo che era mangiami l'anima e poi sputala già il titolo vuole dire un sacco di cose che hanno fatto si sono messi al telefono e hanno rotto le scatole a tutto il mondo per convincere gli operatori che fanno questo lavoro ad andare a vedere lo spettacolo lo spettacolo era stato fatto al teatro Scalo di Modugno che nessuno di voi conoscerà probabilmente perché era un'ex pizzeria che ora è chiusa quindi non c'è più il teatro Scalo e molti operatori di 50 operatori che c'erano in giro in quel periodo 5 sono andati a vederlo lo spettacolo è piaciuto noi per primi siamo andati a vedere lo spettacolo gli abbiamo detto l'anno prossimo lo programmiamo a Bari al Kismet al Kismet ve l'ho detto ieri ci sono come dire noi li chiamiamo maestri e anche giovanissimi artisti quindi tu nella stessa stagione teatrale ti potrebbe capitare di vedere Danio Manfredino e Madante e vedere le fibre parallele che fino all'altro giorno non mi dicevano assolutamente niente erano due ragazzi come voi che hanno detto no noi il teatro vogliamo fare ci dobbiamo provare li abbiamo messi in cartellone quello è un sostegno immateriale nel senso che io non è che ho fatto nulla non è che ho dato dei soldi però ho prestato attenzione al progetto di qualcun altro che in quell'occasione specifica non aveva interesse ad avere i soldi per produrre dello spettacolo perché lo spettacolo l'aveva già messo in scena con le sue forze aveva interesse però a far sì che mettere insieme le energie potesse dare un risultato più alto che semplicemente sommando uno più uno loro hanno tenuto tre in questo caso specifico forse l'ho detto in maniera confusa detto questo loro sono andati in scena al chisme l'hanno visto persone che più in un minuto prima non sapevano neanche chi fosse quello spettacolo funzionava da quello spettacolo è nata una collaborazione noi la chiamiamo incubatore di impresa diamo la possibilità di dare accompagniamo nello start up le piccole compagnie teatrali che come dire ci interessano perché non è che tu il libro lo devi dare a tutti lo devi dare a chi secondo te merita un appoggio o è coerente con la tua visione culturale rispetto a un teatro stabile di innovazione loro con quello spettacolo lì hanno avviato un percorso partendo da un incontro di questo tipo e soprattutto erano talmente convinti loro che ci hanno convinti ad andare a vedere lo spettacolo vi posso garantire che anche per noi che facciamo questo lavoro dopo che vedi centinaia di spettacoli andare a vederne un altro di qualcuno che fino a quel momento non sapeva nulla quindi non aveva credito per noi era un merito sconosciuto era comunque un peso ci hanno talmente rotto le scatole come Domenico ha rotto le scatole a quelli che poi sono venuti qui per organizzare questi incontri che erano talmente convinti loro quello che ci hanno convinto dopodiché l'incubatore di impresa di una giovane compagnia è come se voi tre voi tre avete fatto uno spettacolo io non vi conosco mi avete rotto le scatole dicendomi stasera d'ambia lo mettiamo in scena lo mettiamo in scena lo mettiamo in scena vienilo a vedere lo vengo a vedere ne parlo con la mia direzione artistica che dice vabbè l'anno prossimo venite a Bari vi do l'opportunità di farlo vedere a Bari qual è la differenza che a Bari avete più visibilità il paginone di Repubblica i manifesti 6x3 gli operatori culturali che a Bari sono molto di più chiaramente che ad Andia i critici che magari vengono a vedere lo spettacolo ad Andia non vengono per fare la critica su uno spettacolo di tre ragazze sconosciute a Bari siccome si fidano del progetto Chismet perché esiste da 30 anni dicono ma se quelli hanno messo queste ragazze in scena vuol dire che qualche motivo ci sarà quindi mossi dalla fiducia rispetto a chi ha prodotto lo spettacolo cioè il Chismet e dalla fiducia rispetto al progetto culturale dicono andiamo a vedere queste tre chi sono e che fanno quindi gli abbiamo dato visibilità il primo effetto positivo secondo effetto è quello di averli messi in un cartello in affianco ai maestri quindi la stessa è madante quando vedete una stagione del Chismet perché non crediate cioè un artista dice io sono è madante cioè Domenico Tacchio chi è sto Domenico Tacchio cioè hanno messo me e quello nello stesso cartellone per loro fa anche la differenza quindi quando iniziano a vedere che c'è un nome come Fibre Parallele che gli affianca si iniziano a chiedere questi chi sono e secondo effetto perché non solo gli spettatori e come dire il contesto cittadino conosce il nome di Fibre Parallele lo conoscono anche iniziano a conoscerlo anche gli operatori e gli artisti di fama nazionale e internazionale terzo effetto è sicuramente il fatto che uno spettacolo banalmente come qualsiasi altra cosa tu quando vai in palestra ti devi allenare se smetti di allenarti perdi praticamente la come dire la fisicità che avevi acquisito uno spettacolo teatrale non è molto diverso se tu non lo metti in scena inizia a perdere anche si inizia a sgonfiare quindi uno più volte più repliche fa e sicuramente lo spettacolo più cresce questo è il terzo effetto il quarto è quello di ricevere dei soldi perché convinti del progetto Kismet che ha programmato Fibre Parallele ci sono 400 persone che decidono di spendere 10 euro a testa per vedere quello spettacolo e di quell'incasso parte di quei soldi o totalmente va alla compagnia iniziano a come dire economicizzare tutto il lavoro di investimento che è stato fatto il tutto parte da che cosa però da quella passione da quella curiosità e da quelle cose che sembrano inutili però poi si dimostrano assolutamente utili che sono cercare di trovare le persone in situazioni di diverso tipo può essere un laboratorio dal basso può essere un appuntamento al cinema dove magari loro fanno una performance per promuovere il loro spettacolo incuriosiscono il pubblico che c'è ma bisogna crearsene le occasioni ora le fibre parallele sono arrivate alla quinta produzione noi le abbiamo sostenute anche poi successivamente alla loro prima produzione e lì nasce proprio lo stile fu anche col teatro minimo che è di Andria lo stile è quindi dell'incubatore teatrale che cos'è l'incubatore teatrale dare adottare un giovane artista e portarlo per qualche anno con te finché quel giovane artista autonomamente non può andare sulle sue gambe nella pratica che cosa significa ieri abbiamo parlato di buste paga di contratti di incidenti sul lavoro INAIL IMS EXEMPLES e tutta una serie di meccanismi e modalità complicatissime perché si approccia e soprattutto non fa quel mestiere adottare un giovane artista in questo caso una compagnia ma non poteva essere per un fotografo un artista visivo un danzatore significa liberarlo di tutte queste rotture di scatole che tra l'altro vi posso assicurare che sono in parte complicatissime dirgli io ti sostengo perché mi occupo io di questo tu occupati soltanto del tuo lavoro artistico quindi tu non avrai più rotture di scatole rispetto a consulenti di lavoro consulenti fiscali IMS EMPALS INAIL Agenzia delle tasse Camera di commercio perché se mi facessi l'elenco di tutte le pratiche che uno dovrebbe fare uno impazzirebbe questo ha garantito alla giovane compagnia di andare tranquillo a fare il proprio lavoro noi come dire per vocazione l'abbiamo sempre fatto ma riteniamo che sia una delle modalità più giuste perché non è che tu a parte questi bandi che sono destinati ai giovani agli under 35 sono fatti proprio per chi non ha esperienza quando tu inizi a fare questo lavoro professionalmente non è che è un automatico sei bravo e accedi a un contributo non è assolutamente così non basta essere bravo devi raggiungere anche dei parametri parametri significa numero di recite significa giornate lavorative e quant'altro quindi tu finché non arrivi a quel parametro non hai neanche un'organizzazione interna che ti consenta di gestire tutto e soprattutto non hai soldi per poterlo fare quindi tolte queste rogne dai la possibilità alla giovane compagnia di dedicarsi esclusivamente alla parte artistica e poi pian piano quando è pronto a spiccare il volo si sgancia si assume magari un organizzativo e in autonomia gestisce la propria attività culturale questo è uno degli esempi che significa che un ente come il nostro che ha dei contributi io ve l'ho detto ieri per i primi 15 anni non ne abbiamo avuti non ne abbiamo avuti vi ho detto anche che il chismet all'inizio aveva deciso di fare una comune cioè 20 persone che abitavano tutte insieme per risparmiare i soldi dell'affitto i soldi della spesa delle bollette per poter produrre gli spettacoli ma adesso che noi abbiamo la possibilità di evitare una serie di problemi ai giovani compagni decidiamo e proseguiamo in questa attività attualmente lo stiamo facendo con Vico Quartomazzini che nascono a Terlizzi e loro hanno vinto ad esempio il bando principi attivi di tre anni fa con una produzione teatrale dei laboratori di formazione teatrale lo stiamo facendo con la ballata dell'Enna che è un altro gruppo metà pugliese metà piemontese che sta andando avanti su questi progetti con varie forme le forme possono essere mille cioè quello che vi ho spiegato adesso quindi proprio dell'adozione l'incubatore teatrale è pieno adozione di una compagnia c'è un'altra forma che è del sostegno produttivo che significa che se voi avete delle esigenze specifiche io cerco di darvi una mano come vi serve uno spazio per provare sappiate che andare in uno spazio per provare significa perlomeno spendere 100 150 euro al giorno almeno riscaldarlo avere delle attrezzature quando io ho il teatro vuoto perché lo devo tenere inutilizzato se c'è qualcuno che ha bisogno soprattutto se è bravo perché se non fosse bravo il problema non si pone neanche perché probabilmente non ha neanche l'attenzione del professionista in questo caso del chisme ma se il chisme lo ritiene bravo sicuramente tutto quello che è come dire potrebbe essere uno spreco perché un teatro chiuso un giorno è uno spreco questo laboratorio se è chiuso un giorno e invece poteva essere aperto è uno spreco magari lo utilizzavate voi semplicemente quindi tutto quello che puoi dare lo dai a noi che siamo più grandi importanti può sembrare banale ma la giovane compagnia vi posso assicurare che uno spazio attrezzato riscaldato pulito con dei tecnici che li montano i fari e li smontano con qualcuno che gli spiega anche gli da anche alcune dritte perché poi c'è tutta la parte artistica che magari li sostiene anche rispetto al lavoro di regia di dramaturgia e quindi tu ti sostituisci all'ente pubblico ma il compito di chi ha dei contributi pubblici è anche quello di dare spazio ai giovani che vogliono intraprendere quel percorso ora il teatro sospeso tornando all'inizio ha fatto esattamente questo pezzo ci ha dato come dire la possibilità ad esempio dei ragazzi che non hanno neanche 20 anni di partecipare a dei momenti di incontro di riflessione su alcune tematiche è un'occasione non è detto che molti di voi siano contenti di questi incontri perché magari non gli interessava il tema magari qualcuno si però è esattamente la logica con cui funzionano questi meccanismi ora gestione che significa gestione noi stamattina abbiamo fatto un esempio di come funziona un investimento su un progetto fotografico ora pensiamo a un progetto teatrale teatrale musicale o di danza spettacolo dal vivo un po' lo abbiamo già accennato però nel momento in cui uno definisce di voler lavorare qual è lo spettacolo nuovo che deve fare il teatro sospeso? avete deciso di fare un'intervista così simuliamo esattamente che cosa succede quando c'è una riunione tra la parte artistica e la parte organizzativa questo è il titolo ecco l'è acceso però mentre lo fai devi fare il giocoliere il giocoliere ok allora lo devi mettere in scena quando hai previsto di fare il debutto? il debutto più o meno l'abbiamo già fatto però diciamo che è il 10 di stiamo fingendo quindi il 10 di febbraio il 10 di febbraio quanti giornate di prove devi fare? un mese un mese quindi praticamente da oggi inizierai già le prove quanti attori ci sono in scena? uno un attore un monologo quindi? sì c'è un tecnico che ti affianca nello spettacolo? c'è un tecnico che deve fare una produzione audio video e poi c'è un tecnico che mi deve seguire per quanto riguarda le luci ok dove dovresti fare il debutto? hai già parlato con qualcuno? sì quindi hai già la data? sì è il luogo? sì ok ci sono allestimenti? hai previsto degli allestimenti? anche sono gli allestimenti scenografici? è abbastanza semplice per quanto riguarda la scena sul palco cioè nel senso una scrivania una sedia dei libri e una gabbia di ferro con due teli quante ore di montaggio dovrebbero essere? c'è già fatto un'analisi? sì al massimo due serve un furgone per andare per portare lo spettacolo in giro? una macchina una macchina? sì e dov'è il debutto? qui vicino e lontano? a Trania al Palazzo Bianchi a Trania al Palazzo Bianchi quindi sono 15 chilometri? sì ok hai già fatto un piano di promozione? sì con la responsabile della comunicazione della compagnia nel senso vabbè per il piccolo che noi sappiamo nel senso che abbiamo ideato già la Locandina quindi un progetto grafico lo vorremmo promuovere sui mezzi di comunicazione che noi abbiamo che però non costano nulla ma costano la tempistica alla responsabile della comunicazione che ha fatto la vostra scuola tra l'altro del Teatro Sospeso e infatti funziona bene la comunicazione e poi fare non tanto manifesti perché abbiamo capito che sui manifesti tranne che sul led sui 6x3 non ci interessa però fare soprattutto delle locandine da poter affiggere in tutti i luoghi abbiamo già fatto un piano di promozione nelle chiese nelle scuole però dobbiamo pagare poi qualcuno che le vada ad affiggere ma normalmente le affiggiamo noi e poi dei pamphlet piccolini da poter distribuire ovunque lasciarli nei bar e tutto quanto scusa una domanda tecnica che non ti ho fatto prima il mese di prove dove lo fate? il mese di prove lo facciamo al Palazzo Bianchi quindi per un mese andrete da Andrea Trani sì ok avete invitato gli assessori dei comuni pugliesi a vedere lo spettacolo? no perché? perché aspettate ve la spiego questa perché devi invitare l'assessore? perché uno si chiede no 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 perché questa è una cosa che per me è normale però giustamente uno dice perché devi invitare gli assessori a parte il fatto che sono tutti quasi ignoranti ma perché devo invitare gli assessori dei comuni pugliesi a vedere uno spettacolo teatrale innanzitutto parlo di assessori alla cultura chiaramente parlo di quegli assessori che sono assessori di comuni che hanno un teatro quindi che programmano un'attività teatrale nei loro teatri comunali l'ulteriore visibilità l'ulteriore visibilità e magari riesco a vendere pure qualche spettacolo questo è del senso quindi non assessori al traffico la mobilità parlo di assessori alla cultura e quelli del consorzio teatro pubblico li invitati? no perché no? consorzio teatro pubblico che cos'è? è uno degli enti più importanti perché si occupa del circuito teatrale è un consorzio sapete che significa consorzio? è un insieme di soggetti che si sono uniti che sono tutti soggetti pubblici quindi comuni province e regioni per statuto dovrebbero essere soggetti che hanno una proprietà di un teatro e quindi si mettono insieme e dicono poi al consorzio mi organizzi le stagioni teatrali quindi mi organizzi quando ad Andia c'era la stagione teatrale con dieci titoli con Luca Argentero Michele Placido eccetera era il consorzio teatro pubblico che faceva questo lavoro quindi ci sono delle persone al consorzio teatro pubblico che insieme agli assessori alla cultura dei comuni soci come dire definiscono le programmazioni e decidono chi mettere nei cartelloni e chi no quindi è essenziale che insieme agli assessori ce ne sono 50 i soci comuni i comuni soci del teatro pubblico di questi 50 se tu riesci a far venire quello di tre anni che è dello stesso comune in cui fai lo spettacolo è già un miracolo è già un miracolo magari però lo devi fare questo lavoro ma far venire quello del consorzio è la cosa assolutamente più giusta perché è quello che poi insieme agli assessori decide la programmazione quindi quello è essenziale se tu vuoi cercare di commercializzare il tuo prodotto che in questo caso è uno spettacolo teatrale dopodiché hai invitato gli operatori culturali del territorio cioè i teatranti che potrebbero essere interessati al tuo lavoro no quindi chi si occupa di comunicazione al teatro sospeso lo fa a metà manca l'aspetto organizzativo in realtà cioè ci manca una figura no vabbè non c'era stavo facendo una simulazione ma stiamo cercando perché è importante allora importante il progetto è importante l'idea è importante il progetto ma è importante anche che lo sappia la gente giusta perché la comunicazione è basata su due livelli la comunicazione di massa cioè locandine manifesti siti internet profili facebook quindi social network perché più gente lo sa che c'è quell'evento e meglio è e poi c'è una parte di comunicazione che è indirizzata a uno specifico settore che potrebbero essere quelli che poi acquistano il suo spettacolo e il suo spettacolo magari da fare una recita se ne trova a farne 20 perché ha lavorato bene in questo senso ora torniamo indietro alle prime domande tu quando banalmente hai deciso di fare un mese di prove hai costruito un progetto sembra banale hai costruito un calendario hai chiamato il palazzo Bianchi a Trani cioè il responsabile del palazzo Bianchi e gli hai detto caro Nicola e Nino Nicola ascoltami è libero il tuo spazio da questo giorno a questo giorno da quest'ora a quest'ora sì mi puoi dare un aiuto e farmi fare le prove per il mio spettacolo sì mi fai pagare un fitto o me lo dai gratuitamente domanda no no non lo voglio sapere voglio dire manteniamo anche la privacy cioè questo è un progetto sta iniziando a mettere adesso noi siamo già nel corso perché praticamente il mese di prove è già iniziato da quello che ho capito se non è iniziato inizierà lunedì quindi questo lavoro qui è tutto un lavoro organizzativo per costruire poi un progetto anche economico però parte tutto da quello che concretamente si decide di fare quindi lui in pratica sta iniziando a prendere delle decisioni che significa anche definire dei costi e poi dei ricavi innanzitutto lo spettacolo è gratuito o è a pagamento? lo spettacolo è a pagamento è a pagamento cioè voi pagate chi viene a vederlo? o c'è un biglietto? no per gli operatori ovviamente è gratuito poi quando entreremo in qualche rassegna sarà a pagamento no no per gli operatori perché voi li invitate quindi è uno spettacolo a pagamento quindi nel tuo budget stai prevedendo anche un incasso di quanti posti è fatto il palazzo bianco? 80 posti a sedere 80 posti a sedere più o meno abbiamo tutte le informazioni però chiaramente questa è una prima riunione di produzione in cui lui mi ha detto qual è la sua idea devo dire se fosse vera la cosa che è molto avanti nella fase progettuale quindi io mi sono appuntato una serie di cose e inizio a inserirle nel come dire prima nel mio cervelletto e poi all'interno dei miei software e documenti per capire questa idea concretamente che costi ha quindi c'è l'idea poi nasce l'organizzazione in questo caso lui ha già fatto parte di quel lavoro lì dopodiché ci vuole un piano economico che sostenga l'idea e quindi anche l'organizzazione quindi la prima informazione che mi ha dato è che c'è un mese di prove mi ha detto che lo fanno a Palazzo Bianchi e mi ha detto che sono diciamo che sono gratuite cioè glielo regala ok per un mese lui può stare lì e non paga nulla c'è una prima analisi da fare due persone un tecnico e un attore che per un mese lavorano quindi la prima cosa che io vado ad imputare è 30 giornate vado a vedere il contratto collettivo nazionale del lavoro e dico un attore quanto prende al giorno? ve lo dico sono 79 euro l'orde da 64 c'è stato un aumento 79 euro l'orde che significa mediamente che lui percepirà 65 euro per ogni giornata di lavoro quindi inserisco i dati attore 1 giorni 30 paga 79 tecnico 1 giorni 30 paga 79 ora non sono così bravo ma stiamo parlando di circa 2200 euro a testa di paga all'ordo delle imposte a carico del lavoratore quindi io mi calcolo anche le imposte a carico dell'azienda che sono circa il 35% perché quelle a carico del lavoratore sono circa il 10% che devo versare io e che è un costo mio quindi ai 2100 che sono gli stipendi dei due li devo aggiungere un 35% lo faccio in questo momento in maniera come dire arrotondata molto semplificata perché non sono io il consulente del lavoro ma devo fare un preventivo perché non è che gli devo dare la risposta dopo un mese questo lavoro appunto questa intervista questa riunione di produzione deve produrre un documento progettuale nel giro di uno massimo due giorni perché lui poi se io gli dico che questa cosa non è fattibile così come se l'ideata deve avere il tempo di fare le correzioni quindi siamo arrivati a 2200 euro a testa quindi sono 4400 più il 35% di oneri stiamo parlando di circa 1500 euro quindi siamo già più o meno nell'ordine dei 6000 euro soltanto di coste personale questa produzione costa fino al debutto 6000 euro dopodichè lui mi dice guarda che io sto andando a Trani quindi ogni giorno qualcuno deve farsi 15 km all'andata e 15 km a ritorno per arrivare a Trani ora posso pagargliele o non pagargliele però è un costo che lui sostiene ed è un costo del progetto quindi valuto qual è il consumo di benzina e gli scrivo rimborsi al personale che sarebbero l'attore e il tecnico di prima lui ha detto che con una macchina ci arriva quanto consumi per arrivare a Trani 10 euro al giorno per andare e tornare 10 euro per 30 giorni e sono altri 300 euro queste sono proprie cose di base dopodichè lui mi ha detto che non c'è nulla in scena o quasi una scrivania una sedia una gabbia di ferro e due tele e dei libri quindi c'è un allestimento che è costato o costerà quanto? ma un 300 euro fra la scrivania da far fare al falegname con la sedia quindi ci sono costi di allestimento di altri 300 euro ci sono dei costumi? sì c'è un costume abito dell'epoca del 1600 che stai noleggiando stai acquistando? lo faccio fare lo faccio fare dalla sarta lo fai fare da una sarta quindi ci sono c'è anche la voce costumi che ha un costo di? fortunatamente il tessuto vabbè non è ottimo costa 20 euro 20 euro quindi si aggiungono altri 20 euro a parte la sarta ah eh no e allora devi dire il costume è una voce unica e la sarta poi anche lì l'ha fatto gratuitamente quindi diciamo però dovrebbe essere insomma ci ha messo tre giorni per farlo quindi tre giornate lavorative diciamo che è costato in tutto 300 euro dai facciamo così quindi ci sono anche i costi di costumi di 300 euro dopodiché lui ha detto noi stiamo provvedendo a lavorare sulla promozione perché se io organizzo uno spettacolo perché io faccio la promozione vi immaginate se lui arriva lì alle 9 che è l'orario all'inizio dello spettacolo non c'è nessuno anche se fosse gratuito eh guardate non fa la differenza quello ma vi immaginate se uno deve fare uno spettacolo e non si presenta nessuno perché nessuno ne sa nulla quindi uno cerca di fare promozione per farlo sapere a più gente possibile quella è la quella che dicevamo prima cioè a tappeto cerco di tappezzare il comune di Trani ma anche i comuni di Mitrofi di locandine di materiale promozionale del mio spettacolo che hanno un costo materiale tipografico uguale costo pari a mille euro mille euro quindi abbiamo superato le 7500 euro se dobbiamo calcolare stampe a fissioni per fare manifesti grandi e volantini piccoli e panfret se no hanno mille euro ok poi siccome lui è uno schiavista c'è una ragazza che andava nella stessa nostra scuola che lavora gratis ma che se siccome lavora avrà lavorato dieci giorni su questo progetto di comunicazione sì quindi magari dovrebbe avere anche se virtualmente mille euro di costi siamo arrivati a 9000 euro ok dopodichè c'è tutto un lavoro di promozione no attenzione c'è anche la produzione del video perché in realtà Mephistophela e Lucifero appaiono come un ologramma su una macchina del fumo cioè esce il fumo e quindi si va a complicare il tutto allora ebbè volevamo renderlo moderno quindi qual è che lo fate lo spettacolo? l'abbiamo già fatto però senza l'ologramma adesso stiamo provvedendo a rifarlo però ci vedremo perché loro lo vogliono venire tutti a vedere è vero? ci metteremo due mesi per farlo per unirlo col video quindi c'è una persona che si occupa di promozione ha detto che c'è un tecnico a questo punto che lavora invece sull'ologramma e che si occupa di questo quindi possiamo valutarlo non lo so in cifre in numeri Leonardo quanto dovresti costare anche se l'hai fatto gratuitamente? mille euro compreso montaggio registrazione va bene ti ha fatto uno sconto ci sono gli abiti anche per riprendere l'attore che interpreta Mephistofelo e Lucifero due abiti diversi compresa la truccatrice che dovrà truccare tutto gratuito perché sono tutti volontari però questa è una allora praticamente abbiamo capito una cosa una produzione anche semplicissima togliete il fatto costa 10.000 euro una produzione semplicissima con un attore scena costa 10.000 euro cioè voler fare le cose per bene quindi lui si pagava uno stipendio lui percepiva un compenso per il lavoro che stava facendo la ragazza che si è diplomata nella vostra scuola comunque aveva un compenso la costumista non la schiavizzava gli dava 300 euro tutto il lavoro che era fatto era pagato stiamo parlando di un progetto che costava 10.000 euro ora 80 posti quanto può costare un biglietto? 10 euro? 5 euro perché è una compagnia emergente vuol dire che presumi di incassare con il tutto esaurito 400 euro questo è il primo dato che dovete capire per questo servono i contributi pubblici nel settore della cultura perché altrimenti ad esempio i vecchi artisti cioè vecchi mi riferisco ai nomi più importanti del mondo della cultura italiano non è che lavoravano gratis c'era qualcuno che pagava che pagava e commissionava a Michelangelo di fare una cosa e a quel lato di farne un'altra in questo caso siccome è cambiato il mondo c'è siamo come dire c'è un governo che dice io voglio mettere fondi sulla cultura perché se lui volesse fare uno spettacolo che costa 10.000 euro l'incasso è di 400 chiaramente c'è quella differenza da colmare ora questa è la teoria nella pratica che cosa succede intanto il costo di produzione è un costo chiaramente complessivo di tutto quello che è stato fatto per produrre una cosa da quando è stata ideata a quando si è realizzata quindi quello è il costo di produzione di un progetto di spettacolo ho dimenticato il traduttore perché se no dovevo pagare i diritti alla casa editrice tu direi non lo volevi dire ho dovuto pagare quindi abbiamo superato i 10.000 euro abbiamo superato i 10.000 euro diciamo che chiedendo sconti più o meno a tutti anche a te avrà un budget di 10.000 euro di costo di produzione produzione significa da quando ha avuto l'idea a quando il progetto teatrale è terminato cioè è pronto per andare in scena e corrisponde esattamente all'investimento che la compagnia in questo caso del teatro sospeso decide di realizzare quindi io dico devo fare un progetto di spettacolo approfondisco il tema capisco qual è l'idea ne parlo lui in realtà ne ha parlato da solo perché ha sia il ruolo artistico che organizzativo perché è una piccola realtà quindi non può per me per quello c'era la mancanza di aver chiamato gli operatori ancora non avevo capito allora si dice per fare questa cosa ho bisogno di 10.000 euro questa cosa dal punto di vista temporale durerà più o meno un mese questi 10.000 euro verranno spesi in questo modo la prima settimana probabilmente nulla poi inizierò ad uscire dei soldi per pagare l'acconto a lui che deve fare quel lavoro alla sarta perché deve comprare i materiali e certamente uno non è che può anticipare i soldi per conto del teatro sospeso quindi chiederà sicuramente un acconto inizierà a pagare i rimborsi per il carburante perché ogni giorno va a trani quindi questi 10.000 euro inizieranno a diventare un piano finanziario cioè quando escono concretamente perché magari uno scopre che non gli servono dal primo giorno può trovarli in momenti diversi del periodo di produzione ora 10.000 euro lui dice cavolo allora non la posso fare questa produzione chi ce li ha 10.000 euro e inizia a fare il ragionamento che fino ad ora l'abbiamo detto in maniera teorica come dire facendo degli esempi non concreti inizia a dire vabbè io non mi pago lo stipendio però comunque lo ha quantificato il suo costo il tecnico non gli do lo stipendio per 30 giorni gli darò un gettone a lui gli chiede una sponsorizzazione metto il suo marchio sul materiale così tutti sanno che quel lavoro lì l'ha fatto il suo studio fotografico in cambio lui me lo fa gratis dopodichè dice alla sarta senti vado da mia nonna se non è già la nonna vado da mia nonna perché non riesco a darti 300 euro oppure fammelo tu scriverò costumi di e probabilmente però non sarò in condizioni di darti niente per il momento ma devo fare dei protocolli di intesa con questa persona delle liberatorie chissà un domani poi si rivalgono sul fatto che delle liberatorie però sappi che quando uno ti fa causa quelle puoi farci l'aeroplanino allora praticamente trova l'economia per poter realizzare un progetto di 10.000 euro da una parte qualcuno magari gli dà anche dei soldi dall'altra parte quello che deve fare fondamentalmente è cercare di trovare degli investitori gli investitori sono coloro che come lui rinuncia al compenso che ha e lo mette all'interno del progetto cioè immaginatevi che lui facesse questa operazione si deve dare 2.200 euro li mette sul tavolo e poi se li riprende in quanto investitore dello stesso progetto che sta facendo oppure trova un mecenate che dice io ce li ho questo progetto mi piace ti do 10.000 euro ora questa è la fase produttiva cioè il costo del progetto costa 10 dopodiché c'è tutta un'altra valutazione da fare il costo della singola recita cioè la produzione ha un costo dopodiché siccome io vendo quello spettacolo spero di vendere 100 recite devo valutare quanto costa una recita allora lì devo fare il ragionamento che ho fatto prima chiaramente rivisto rispetto a quelli che sono i costi di una singola giornata se è vicino forse di due se è più lontano dove vado a cambiare le voci di costo in parte e a capire quali sono i costi che sostengo se vado a fare una recita magari a Lecce allora abbiamo detto che ci sono due persone quindi quelle rimangono e abbiamo già stabilito che più o meno che costano 79 euro a testa più gli oneri poi abbiamo detto che ci vuole una macchina ma non è più 15 km all'andato e 15 a ritorno perché sono quasi 200 da qui a Lecce andate e ritorno quindi cambia anche il costo del carburante probabilmente siccome lo spettacolo sarà sicuramente di sera io finisco lo spettacolo non è che finito lo spettacolo uno se ne va deve smontare l'allestimento che c'è quindi non è che è finito alle 10 gli spettatori magari si vanno a fare una pizza magari se ne vanno a casa il tecnico e l'attore perché c'è sempre bisogno di almeno di due persone per fare per trasportare i materiali smontano lo spettacolo l'allestimento scenico lo caricano in auto o nel furgone probabilmente non finiscono alle 11 magari finiscono a luna di notte e forse è necessario che una notte la passino in albergo quindi è un altro costo dopodiché non è che i tecnici e gli attori vivono di aria devono pur mangiare quindi non dico che li mando al ristorante li manderò in una trattoria una pizzeria ma gli c'euro a testa 15 euro a testa sicuramente li spenderò dopodiché se tu vai a fare uno spettacolo da qualche parte sicuramente quello che ti ha chiamato ti dirà guarda due sono le possibilità o ti acquisto il tuo spettacolo a cachet oppure acquisto il tuo spettacolo a incasso che significa a cachet io decido di spendere mille euro su di lui mi prendo io il rischio lui comunque avrà i suoi mille euro a prescindere a quanto pubblico pagante ci sia e l'incasso è totalmente mio invece l'altra possibilità è non conosco il teatro sospeso è la prima volta che viene a Lecce di solito le prime volte è sempre così anche con quelli che poi diventano i grandi artisti e decido di rischiare insieme percentuale sugli incassi oppure esattamente gli incassi al netto della SIAE quindi se lui ha la capacità di riempire anche il mio teatro probabilmente tutto l'incasso va a lui o una percentuale su quell'incasso però bisogna prima quantificare quanto costa quella data che ti è stata richiesta a Lecce se conviene o non conviene perché se non conviene devi decidere di investire ulteriormente e quindi di rimetterci dei soldi da una parte ma è un interiore di investimento perché forse tu non sei riuscito a far venire a Trani tutti gli operatori che abbiamo detto e quindi dici vabbè lo faccio anche a Lecce così faccio venire gli altri se invece però devi quantificare il costo di quella data e soprattutto devi avere la mente come dire veloce perché se lui ti chiama da Lecce per dirti vieni a fare lo spettacolo nel mio teatro senti quanto costa lo spettacolo le informazioni che ti chiedono sono fondamentalmente quanto costa lo spettacolo se ti serve un aiuto se ti serve una scheda tecnica e se ci sono costi a carico mio o no aiuti tecnici facchinaggi eccetera eccetera tu devi avere la risposta pronta non è che gli dici ah guarda perché poi perso il treno è persa anche l'occasione cioè lui magari intanto tu non gli hai dato una risposta chiama a Lecce e compri il suo spettacolo il calendario di una stagione è quello magari ti dice quando tu lo richiami senti ho già provveduto non ti preoccupare grazie allo stesso quindi uno deve essere abbastanza veloce allora ci sono una parte di costi fissi facili individuabili immediatamente cioè il costo del personale è quello non è che cambia se lo fa a Lecce o lo fa a New York lui se l'accordo è che prende 79 euro al giorno 79 euro al giorno costerà quindi i costi fissi quali sono? le giornate lavorative quindi le paghe sono sicuramente il costo del consulente del lavoro perché ogni volta che tu fai una giornata lavorativa e metti una busta paga il consulente del lavoro ti chiede un costo dopodiché ci sono i costi variabili che sono la distanza soprattutto che ti dice che non sono 15 km ma che sono 200 all'andata di ritorno e devi considerare almeno 30 centesimi per ogni chilometro quindi stiamo parlando di 120 euro l'albergo se c'è o no il ristorante se c'è o no quella è la parte variabile e poi devi considerare un minimo di guadagno su quella recita perché ti deve andare a coprire i 10.000 euro di investimento che vi hai messo all'inizio perché altrimenti che senso ha non li recuperi mai quindi facciamo finta che il suo conteggio per fare una replica a Lecce è di 1.000 euro ora lui perché così è un paccagno dirà 1.000 euro anzi lui gli dia 1.500 così poi può trattare no 1.500 no ma è impossibile io 1.500 non ce li ho allora devi iniziare a fare il creativo anche nella fase organizzativa e amministrativa perché lui chiaramente tenderà a spendere il meno possibile probabilmente per arrivare a dargli l'incasso però il problema dell'incasso qual è? che se non hai una base dove tu hai un minimo garantito cioè lui va veramente alla cieca allora i 10.000 euro che ha già investito si trova poi a investire altri 1.000 o altri 2.000 quindi il gioco qual è? avere la capacità di capire quali sono le mie potenzialità lo spettacolo ad esempio ha dato un pubblico adulto e un pubblico per ragazzi solo adulto adulto nel senso che dai 16 anni in poi è comprensibile quindi per le scuole superiori potrebbe andare bene gli ultimi anni quarta e quinta sì così è che c'è già una classe qua che ha detto che viene tre classi è vero non mi fate fare tutte figure è così allora una delle possibilità è quella di per abbassare i costi anche per il teatro che ti chiama di dire senti facciamo una cosa la proponiamo nello stesso giorno anche per le scuole superiori quindi in un giorno io faccio due recite e potenzialmente posso lavorare su due incassi questo significa ammortizzare i costi perché in un giorno i costi sono identici però aumentare la probabilità di moltiplicare o quasi raddoppiare gli incassi lasciando i costi invariati gli unici ma i diritti si ha in questo caso sono a carico del compratore o di chi propone lo spettacolo? allora i diritti si ha e non sono a carico né di uno né dell'altro in realtà li pagate voi mi spiego quando voi fate comprate un biglietto per assistere a uno spettacolo teatrale comprate un biglietto che costa 10 euro quel biglietto ah io che ho organizzato lo spettacolo innanzitutto bisogna togliere l'IVA perché come avevo detto l'altro giorno l'IVA non è mia è una tassa che voi pagate io trattengo e verso lo Stato l'altra cosa che devo considerare che non è mio sono i diritti siae perché esiste un documento da dove si evince dall'incasso lordo quanto è di siae che devo pagare e la verso appunto alla siae che cosa sono i diritti siae chi ha scritto quell'opera l'opera è di Cristofer Marlo ok però il tuo è un un riadattamento che cosa è? è una traduzione è una ritraduzione dell'inglese prendendo alcune parti ok quindi è un riadattamento si è un riadattamento è stato depositato la siae oppure no no quindi in questo caso non c'è la siae ma facciamo finta che l'autore ha depositato il testo alla siae è di 1000 euro ci sono 200 euro di siae quindi io dei 1000 euro tolgo l'iva poi tolgo 200 euro che è verso alla siae perché mi ha fatto il calcolo e dice che l'autore ha chiesto 200 euro alla replica perché devo tutelare l'autore è un come dire è una cosa dell'autore quel testo non è che io posso inventarmi oggi di fare uno spettacolo no così sentono anche a casa no no io ho messo la vibrazione allora la siae serve proprio a come dire a dare quel compenso che aspetta l'autore che si è inventato quel testo ed è giusto che sia così poi come funziona esattamente la siae è un mistero della fede non lo sa nessuno esattamente non è che negli altri stati non esiste la siae ci sono altre modalità di tutela degli autori è vero questo ci sono altre modalità ad esempio in Italia c'è un monopolio della siae un monopolio che significa che solo la siae tutela gli autori considerate però che è molto differente la ripartizione delle entrate della siae rispetto a Gino Paoli e a un autore come potrebbe essere lui che ha scritto un testo perché lui fa molte meno repliche e la cosa è anche proporzionale a quante volte vabbè è troppo un casino ve l'ho detto è un mistero della fede anche se parlate con il direttore generale della siae non ve lo sa spiegare tra l'altro Gino Paoli è il direttore generale della siae a livello nazionale cioè vabbè comunque da un anno allora questa cosa è esattamente come l'hai detta tu incasso 1000 euro restituisco 200 euro alla siae ho tolto l'iva quindi magari siamo scesi a 700 quell'incasso tra l'altro non è per me soltanto destinato alla compagnia perché io ho anche aperto uno spazio o magari l'ho riscaldato magari ci ho messo delle persone quindi ho ulteriori costi che però non devo far gravare su di loro e continuo a spiegare perché esistono i contributi pubblici su questo tipo di attività ora lui ha quantificato che i costi per fare una replica a Lecce sono di 1000 euro e abbiamo capito anche che ci sono due tipi di costi diversi dei costi fissi che rimangono sempre invariati e dei costi invece invariabili che cambiano in base a una serie di cose tipo la distanza quando lui inizia a ricevere le telefonate perché lo spettacolo è piaciuto in base a questi criteri deve essere velocissimo a dare delle risposte se la prossima telefonata che riceve di uno di Milano se a quello di Lecce le ha detto che costa 1000 perché i costi fissi erano di 500 i costi variabili erano di 300 più ci ha messo un ricarico di 200 per recuperare i famosi 10.000 euro della produzione adesso a quello di Milano che cosa gli deve dire secondo me sempre 1000 soltanto i costi per arrivare a Milano soggiornare a Milano e tornare saranno minimo non dico il triplo ma almeno il doppio quindi facendo di nuovo l'esempio di prima stiamo parlando di 500 euro di costi fissi più probabilmente di almeno 600 di costi variabili più famoso ricarico di circa 200 euro quindi sono almeno 1300 euro che deve chiedere al teatro di Milano ora immaginatevi questa cosa considerate che i teatri in Puglia e le occasioni per poter far vedere i propri spettacoli in Puglia sono almeno un decimo di quelli che possono essere in Emilia Romagna in Toscana in Lombardia o in Piemonte non parliamo del Lazio questo è lo stesso discorso che abbiamo fatto stamattina rispetto alle gallerie d'arte se a Milano esisteva se il teatro sospeso fosse stato di Milano quando produceva uno spettacolo soltanto nella provincia di Milano aveva l'opportunità di farlo vedere in 50 teatri quindi questi famosi 200 euro che lui applicava di ricarico su ogni replica aveva l'occasione e la possibilità vendendo 50 recite nei 50 teatri della provincia di recuperarli probabilmente in due mesi di tournè in Puglia dove ci sono 50 teatri forse in tutta la regione dove di questi 50 teatri ce ne sono 45 con gli assessori che non vedono neanche loro i loro spettacoli teatrali che hanno scelto e dove è difficilissimo vendere poi ai privati perché comunque sono 2, 3, 4 non di più le occasioni che ha un produttore pugliese come è per la fotografia ma è ancora peggio per la danza ed è peggio anche per la musica perché i luoghi di spettacolo quelli sono sono bassissimi sono bassissimi e qui torniamo al discorso di oggi quando abbiamo parlato dei laboratori urbani il fatto di avere 100 spazi non magari tutti attrezzati per fare spettacolo dal vivo oppure attrezzati ma magari non proprio giustissimi per fare spettacolo dal vivo perché questo è uno spazio bello però non è funzionale a uno spettacolo come dire importante possono essere fatte alcune delle cose che ci stiamo dicendo vi ho detto non c'è neanche una graticcia se vuoi montare una scenografia dovrebbe essere piccolissima quindi si possono ospitare soltanto alcune delle cose che vengono realizzate però è assolutamente un'opportunità in più che fino a 3-4 anni fa non esisteva ecco tutto il ragionamento come si conclude le opportunità grazie a questo tipo di investimenti fatti dalla regione Puglia rispetto ad esempio ai laboratori urbani offre molte più possibilità a chi fa questo tipo di lavoro che è un lavoro creativo in questo caso era uno spettacolo di teatro in altri casi può essere arte visiva in altri casi ancora potrebbe essere uno spettacolo di danza semplicemente dei musicisti che prima suonavano soltanto una volta all'anno sempre nello stesso locale ad Andria magari adesso grazie ai laboratori urbani hanno più occasioni per mostrare il proprio lavoro questa è una cosa che se viene come dire utilizzata al 100% potrebbe essere imponente però siete voi i primi che devono far sì che questa cosa si trasformi in opportunità sia come spettatori ma anche e soprattutto come produttori di nuove idee e anche di se volete lavorare nella creatività altrimenti è un altro ragionamento però questo è un laboratorio urbano che è destinato proprio alla creatività giovanile i suoi spettacoli lui ha 37 anni ma l'associazione la media credo che sia tutta sotto i 30 tu sei il più anzianotto sotto i 25 quindi è un'associazione giovanile lui è l'eccezione che conferma la regola si trova lì per caso però esattamente quello che uno dovrebbe fare ora è facilissimo dirlo è facilissimo dirlo così è difficilissimo farlo perché quando io dico telefono al consorso teatro pubblico pulisi agli assessori non crediate che la risposta oh caro Domenico guarda sì guarda non vedo l'ora sto già lì non è così non è così perché la concorrenza di tanti altri operatori è altissima quindi tutti invitano le stesse persone a come dire a vedere i propri spettacoli la qualità il giudizio del lavoro suo di qualcun altro è pure soggettivo a me può piacere tantissimo a lui il suo lavoro può non piacere per niente certo è che la professionalità tu capisci se qualcuno ci ha lavorato un mese oppure ha improvvisato e nel giro di un paio di giorni ha costruito uno spettacolo poi c'è quello geniale che anche quando non fa prove in due giorni costruisce uno spettacolo magari è talmente bravo perché esistono anche quelli che riescono a mettere in scena uno spettacolo fantastico cioè non c'è una regola stiamo parlando di creatività quindi non ci sono regole ci sono degli standard però non esistono regole magari lo spettacolo che faccio io che non sono neanche un attore fatto ogni giorno viene molto meglio di quello che fa lui in 30 giorni di prove con un fior di professionisti alle sue spalle non ci sono regole infatti ve l'ho detto ieri non esiste l'albo degli attori non esiste l'albo dei musicisti o dei cantanti o dei fotografi non è come nell'ordine degli ingegneri o nell'ordine dei medici non esiste stiamo parlando di creatività di talento quindi potrebbe essere che qualcuno che non ha mai studiato l'arte dell'attore sia in grado di mettere in scena delle cose splendide assolutamente così come cantanti che non hanno mai studiato canto e possono hanno un successo enorme considerate che quelli che hanno più successo negli ultimi anni sono persone che non hanno assolutamente il dono della voce faccio degli esempi Caparezza faccio un esempio ancora Vascolossi l'ho detto oggi ma ce ne sono tanti giovanotti cioè se uno dovrebbe valutare questi nomi in base alla potenza vocale e alla bravura nel cantare sicuramente non sarebbero questi nomi che verrebbero fuori però sono degli artisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale che riempiono gli stadi riempiono gli stadi allora il talento se tu non come dire non lo scopri non lo puoi perseguire e non lo puoi come dire non ci puoi lavorare su per questo servono le esperienze che voi dovete fare e vi dovete cercare e per questo hanno costruito degli spazi di questo tipo per poi arrivare a quella fase che abbiamo descritto prima a capire che ogni cosa che io decido di fare ha un risvolto anche organizzativo ed economico che io devo essere in grado di gestire magari anche a livello istintivo perché non è che oggi voi tre decidete di fare lo spettacolo e nominate me direttore organizzativo quello direttore tecnico e quell'altro lo fate commercialista voi tre lavorerete sulla vostra parte artistica però questo capire avere in mano avere una mente organizzata che ti può garantire di capire nel fare ti può dare la possibilità di capire cosa decidere e cosa no è una cosa che bisogna comunque avere la hai però se pratichi tutti i giorni la materia se lo fai tutti i giorni certo non ti improvvisi cioè non è che uno decide di fare una cosa così perché l'abbiamo detto prima ma uno spettacolo geniale che lo può fare uno in un giorno qualcuno che è cioè se Roberto Benini venisse qui io lo nomino sempre sapete perché perché quando qualcuno mi dice tu lavori nel campo dello spettacolo tutti si immaginano che siamo tutti come Roberto Benini che siamo pieni di soldi e che comunque non abbiamo problemi di qualsiasi tipo non so quanti di voi hanno visto i film di Benini però dopo La vita è bella che ha vinto il premio Oscar il secondo film che è stato credo Pinocchio non ha avuto lo stesso successo anche se era un bellissimo film comunque quindi ci sono degli alti e bassi la maggior parte delle artisti e dei creativi non vivono come Benini anzi hanno un lavoro saltuario precario mal pagato probabilmente in molti casi anche a nero ai matrimoni il violinista che suona quasi sempre pagato a nero quasi sempre magari però quello si porta a casa quel giorno molto più di quando lui va a suonare al Petruzzelli allora è un mondo molto complesso perché non esistendo albi chiunque può fare questo lavoro e mettersi in gioco però il talento lo devi perseguire devi fare esperienza bisogna di bere un po' d'acqua ma a voi il mondo della creatività piace ma sapete esattamente che cos'è cioè quando andate in giro vi piace andare a vedere i musei vi piace andare a vedere mostre presentazioni di libri ce ne sono cazzoni ad esempio qui ad Andrea di questo tipo e a voi piace cioè è una cosa che fate con piacere e ti è mai venuto in mente di proporre delle cose all'ufficina San Domenico io ve lo sto chiedendo in continuazione ma secondo te perché non si è autorizzata a proporre delle cose o perché non ci è mai riflettuto su e nessuno te l'ha mai chiesto prima però nessuno ti ha chiesto ma ti viene in mente se hai qualche idea da fare qui e adesso che io vi ho spiegato stamattina che c'è un bando che si chiama mettici le mani e che voi tra qualche mese quando avrete 18 anni potreste fare una cosa del genere secondo te ci sarà qualcuno tra di voi che dirà agli altri o ci mettiamo a tavolino e capiamo un po' approfondiamo e vediamo come funziona secondo Massimo ci sono state altre comunque occasioni tipo con il forum cittadini dei giovani che è un forum dove riunisce tutti gli artisti di Andrea io canto abbiamo fatto molti spettacoli tipo c'è stata la giornata internazionale dei mezzi di trasporto dove abbiamo cantato in circolare cioè c'erano le circolari ad Andria che facevano forse straordinarie e noi con gli strumenti diciamo i cantanti abbiamo cantato in circolare oppure abbiamo presentato abbiamo presentato spettacoli sul vino in varie città e quindi in realtà ci sono le possibilità ci sono delle possibilità a Castel del Monte è complicatissimo fare delle cose a Castel del Monte vi è mai capitato di vedere o fare delle cose a Castel del Monte c'è come si chiama il per che va detente dei mondi ah sì certo e lì ci sono molti cose che fanno volontariato perché non vengono dove fanno foto però a livello quindi tu studi canto ti piace cantare nessun altro fa attività creative di questo tipo ma anche a livello amatoriale non sto dicendo che uno fa una scuola cioè voi siete venuti qua oggi perché parlavamo del tema della creatività e del mondo della cultura rispetto appunto a questioni organizzative e amministrative ma avevate delle aspettative oppure avete pensato vediamo che cosa succede magari interessante magari no non avevate delle aspettative ma io credevo che fosse più sull'arto artistico invece l'ho ritrovata sull'arto io ieri vi ho detto la parte più noiosa è quella di cui vi parlerò io perché sicuramente non sono io non sono un artista quindi è sicuramente la parte più noiosa a servizio della parte più come dire importante che è quella artistica perché la parte più importante è quella che va in scena quindi tutto quello di cui abbiamo parlato prima è permettere nelle condizioni quell'artista di fare nel migliore dei modi il suo lavoro e di tutelarlo di tutelarlo e quindi di far sì che non come dire non abbia problemi né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista organizzativo quando vi dicevo ad esempio il Kismet io faccio questi giri per poi arrivare a delle cose concrete quando il Kismet andava a fare torne internazionali immaginatevi se la parte organizzativa quelli che siano andati in Australia non si fosse organizzata rispetto che ne so agli alberghi oppure noi siamo stati in Madagascar in Australia siamo stati ad esempio agli aborigini insieme agli aborigini ai villaggi aborigini se tu che organizzi non gli hai fatto un bel piano perché poi parleremo anche di questo dopo nella seconda parte un piano di tournée in cui gli dici giorno per giorno che cosa avviene quelli praticamente che sono all'estero e magari in Africa quindi non possono parlare neanche l'inglese o il francese noi lavoriamo in quattro lingue francese, inglese attraesco e spagnolo quindi i nostri spettacoli quelli internazionali vengono prodotti in quattro lingue diverse ma se vai in Africa oppure in Giappone e non gli hai costruito un bel piano di lavoro loro praticamente arrivano all'aeroporto e non sanno neanche che cosa devono fare quindi immaginatevi con che spirito magari la sera hanno lo spettacolo e devono ancora capire che albergo andare a dormire dove devono andare a lasciare i bagagli succede un casino ora la parte organizzativa serve esattamente a questo questo è fondamentale perché se non funziona la parte organizzativa la compagnia teatrale cioè guardate due anni fa organizziamo a Bari un festival chiamiamo come ospiti gli after hours allora rispetto al mondo della musica il mondo del teatro della danza per quanto voglia essere gestito in maniera manageriale nei progetti musicali c'è proprio l'ossessione dell'artista di essere lasciato solo al punto che se voi siete mai entrati nei backstage di un gruppo musicale importante c'è un piano di lavoro dettagliato di ogni 10 minuti c'è scritto esattamente quanti bis devono fare e qual è la scaletta e qual è la scaletta dei bis quindi può succedere non so se vi è successo che se il gruppo vuole fare ha previsto di fare tre bis e il pubblico magari non glieli chiede comunque loro li fanno succede così come succede perché ve l'ho detto ieri che nel campo musicale tu non hai a che fare con gli artisti come nel settore della danza e del teatro hai a che fare con le agenzie allora ti può succedere che un gruppo musicale che magari è di Bari che conosci che vedi tutti i giorni quando lo chiami ti dicono guarda su questa cosa devi parlare con il mio tour manager parli con il tour manager e scopri che praticamente per fare un concerto che è semplicemente una testimonianza perché organizziamo un evento alla sala del Fornelli che vi ho detto che è la sala dell'istituto minorile quindi un istituto penitenziario era una testimonianza di 30 minuti dove dovevamo suonare 4 pezzi ti arriva una scheda tecnica come se dovessi fare il concerto allo stadio San Siro in realtà era in acustico perché poi i manager non avendo nulla di artistico perché è vero che io sono un manager però lavoro a braccetto con gli artisti nella musica chi fa la distribuzione non li conosce neanche gli artisti che poi vanno in giro e che promuovono quindi quello mi manda una scheda tecnica come se fosse un concerto a San Siro e mi manda una scheda di ospitalità così si chiama praticamente l'elenco di quello che vogliono da mangiare e da bere perché sappiate che gli artisti sembra che vengono dalle zone più come dire sperdute dell'Africa e non mangiano non bevono da giorni quindi quando arrivano arrivano in un luogo i musicisti se non mangiano e bevono praticamente stanno male possono creparti indiretta mentre stanno sul palco mi arriva questa scheda dove c'era di tutto c'era di tutto a un certo punto io lo chiamo e gli dico oh ma la cosa che devi fare la devi fare al Fornelli che sono una saletta alla metà di questa di 80 posti dove 40 erano i ragazzi dell'istituto alle 4 e mezza di pomeriggio che cacchio ti servono 100 birre 10 bottiglie di vino 40 panini di tutto poi c'è quello che è vegetariano c'è quello che di tutto lui va in automatico non si rende conto di che cosa gli è stato richiesto quindi è una cosa abbastanza impersonale infatti io sono felicissimo ad esempio di non lavorare nel settore musicale perché il rapporto che hai è semplicemente un rapporto commerciale con delle agenzie e quando ti capita di organizzare un progetto musicale io ho organizzato gli after hours sappiate che non ho conosciuto Manuel direttamente cioè ci sono andato e mi sono presentato ma l'ho fatto io perché tu non hai a che fare con il gruppo ma hai a che fare con il manager che è quello che compila anche quel foglio di carta dove ti scrive alle ore 16 arrivo alle ore 16.05 pausa pipì alle ore 16.10 sound check alle ore 16.37 nuova pausa pipì cioè ed è così lì è maniacale il risultato poi è quello che ad esempio ai concerti musicali si decide di farli soltanto per puro scopo economico non c'è la volontà da parte a questi livelli sto parlando di grandi eventi non c'è una come dire una visione artistica e basta ma soprattutto è una visione economica quindi se un artista riempie io lo faccio se quell'artista non riempie anche se mi può piacere ben trovati a tutti quanti siamo all'ultima ora di di seminario mi serviranno poi i 5 minuti finali quindi io alle 5 meno 5 55 minuti sì ti stopperò alle 5 meno 5 grazie alle quindi io ho 25 minuti e lui ha tu hai 25 minuti o 5 minuti e ricordatevi di firmare mi raccomando prego buonasera allora noi abbiamo fatto degli esempi pratici come dire ipotizzando una produzione teatrale con un debutto questa è la cosa più semplice del nostro lavoro perché voi immaginatevi invece il lavoro che fa una struttura più complessa come il teatro chismet mi porto proprio l'esempio pratico di come funziona la gestione di uno di uno stabile di innovazione che ribadisco per l'ennesima volta che non esistono più e che praticamente produce programma e fa progetti di formazione allora intanto la produzione l'abbiamo già affrontata prima noi abbiamo 5 compagnie teatrali che girano in Puglia chiaramente nei nostri teatri ma anche in tutta Italia e soprattutto all'estero all'estero lavoriamo sempre in ambiti di coproduzione o sostegno produttivi con altre realtà e ad esempio l'ultima produzione che abbiamo fatto è Gigante Egoica è stata fatta in coproduzione con il rap di Birmingham prima ne stavamo parlando durante la pausa è una produzione intanto che viene fuori da un'esperienza precedente perché nel 2012 il rap praticamente ha deciso di affidare al chisme tutta la progettualità artistica allora uno si chiede ma come mai una struttura di Birmingham considerate che gli inglesi che poi sono come dire hanno tutta una loro visione del mondo sono quelli che hanno inventato il teatro secondo loro e che hanno inventato anche il calcio quindi come mai gli inglesi come mai da una struttura inglese importante tra l'altro storica come il rap di Birmingham chiama il teatro chisme intanto per i nostri trascorsi internazionali quindi ci conoscevano eravamo stati già da loro con le nostre produzioni e poi la cosa fondamentale è stata una cioè loro praticamente hanno riaperto con il progetto I Woser Rat affidando al chisme la parte artistica quindi la regia la scrittura la regia il live designer e i costumi per riaprire un teatro che aveva 200 anni di vita dopo due anni di chiusura per ristrutturazione quindi immaginate il petrozzelli che è stato chiuso è stato ristrutturato riapre e da Bari chiamano una compagnia che ne so dell'Albania loro ci chiamano noi facciamo questo progetto questo progetto è talmente forte che nel giro di cioè nel momento in cui è stato visto è stato acquistato da una serie di teatri inglesi quindi oltre che farlo a Birmingham è stato venduto per circa un centinaio di recite in tutta l'Inghilterra quindi anziché durare un mese è durato sette mesi forti di quell'esperienza ci richiamano e ci dicono noi dobbiamo fare un progetto natalizio abbiamo bisogno di finanziare la nostra attività ordinaria dobbiamo fare un progetto natalizio progetto natalizio quindi con uno spettacolo che funzioni per tutto il pubblico che in Italia ve l'ho detto non esiste come dire questa visione del mondo dello spettacolo del teatro quindi affidano a Teresa Ludovico che è la nostra regista e direttrice artistica la produzione dello spettacolo nel momento in cui decidono di fare lo spettacolo e chiudono tutti gli accordi contrattuali parte la campagna di comunicazione parte la campagna di comunicazione erano circa due mesi e mezzo di recite dovevano riempire 80 recite e considerate che il teatro ha mille posti quindi 80.000 persone che dovevano spendere circa 25 o 30 sterline a testa per vedere questo spettacolo se tu devi convincere 80.000 persone a vedere il tuo spettacolo lo spettacolo non può essere un monologo con un faro deve essere uno spettacolo importante sia perché 80.000 persone si devono convincere a spendere 30 sterline che sono circa 45 euro sia perché lo spazio uno spazio immaginativo di mille posti questo è uno spazio di 60 posti a un palco così immaginativo moltiplicato fino a mille quanto deve essere grande lo spazio scenico quindi tu vai a progettare uno spettacolo adatto a quel tipo di teatro una cosa è progettare uno spettacolo per questo spazio una cosa è progettare uno spettacolo per il teatro Petruzzelli grande quanto il rap di Birmingham tu al teatro Petruzzelli se c'è un monologo o è Benigni famoso Benigni oppure se è uno spettacolo con un artista in scena a parte il fatto che chi sta dietro non vede niente se non un omino così sicuramente l'impatto visivo che ne hai non è interessante e probabilmente ti lamenti anche di aver speso 30 serline per vedere quello spettacolo quindi il progetto artistico si rifà anche a questi a questi meccanismi che succede nel momento in cui loro chiudono tutti gli accordi con i registri con gli attori con i scenografici con i tecnici e quindi il progetto è pronto a partire parte la campagna di comunicazione cioè il progetto però è stato chiuso un anno prima ideato un anno prima chiuso nel giro di un mese quindi ai 11 mesi di tempo prima del debutto per lavorare e trovare quelle economie famose che dicevamo prima per produrre quello spettacolo perché se io inizio oggi a vendere un progetto che parte il primo dicembre immaginatevi i 10 mesi di tempo che ho per fare questo tipo di attività 80 recite circa 1000 spettatori sono 80.000 loro hanno riempito praticamente tutto il teatro già dal mese di ottobre il debutto era all'inizio di dicembre quindi si sono non solo finanziati tutta la produzione ma hanno avuto gli utili quindi il guadagno ancora prima che quella produzione andasse in scena ora questa è una strategia chiaramente che puoi fare su numeri elevati però più sono elevati i numeri e più importante deve essere la produzione se tu vuoi convincere 80.000 persone devi fare un prodotto o un progetto non soltanto di qualità ma anche che abbia un forte impatto mediatico e un forte impatto comunicativo è stata chiamata Teresa Ludovico il progetto per dirvi ci sono gli incidenti c'è un artista che si è fatta male è stata sostituita lì è corsa a Birmingham ho sostituito l'attore in due giorni e quindi hanno ripreso le recite le ultime recite saranno questa è l'ultima settimana di recite ora il Kismet di Bari va a produrre uno spettacolo a Birmingham il Kismet di Bari sicuramente quasi nessuno di voi ci sarà venuto qualcuno invece lo conosce è uno spazio vi ho detto che è un cappannone industriale che si è aperto per scommessa e che produce programma e fa formazione ora come fai tu a fare queste tre cose perché la produzione è un ambito ve l'ho spiegato prima come funziona invece la programmazione è tutta un'altra roba perché è fatta praticamente in sezioni c'è una sezione intanto che è quella delle tue produzioni a casa tua quindi io non solo vendo le mie produzioni agli altri ma chiaramente le faccio pure a casa mia quindi propongo i miei spettacoli il mio repertorio anche al mio pubblico e quella è una parte l'altra parte è quella delle ospitalità che è quella di ospitare artisti che non sono del Kismet a fare i loro spettacoli al Kismet l'altra parte è quella della tipologia quindi ci sono gli spettacoli in teatro contemporaneo e poi gli spettacoli che proponiamo alle famiglie ora non è che noi la stagione parte a ottobre e termina più o meno a maggio vi ho detto che in estate i pugliesi non vanno a teatro almeno al chiuso come funziona da un punto di vista progettuale e di gestione questa cosa noi ci lavoriamo l'anno precedente cioè noi nel mese di marzo di quest'anno avremo chiuso già la stagione teatrale 2015-2016 che partirà a novembre e che si concluderà a maggio del 2016 quindi da oggi definiamo qual è la visione artistica quindi quali sono gli spettacoli che vengono scelti definiamo quali sono i budget capiamo quali sono le risorse che ci possiamo mettere dopodiché chiudiamo il progetto chiudiamo gli accordi con la compagnia e nel mese di giugno proponiamo al nostro pubblico la stagione teatrale il cartellone si chiama così perché dal giugno a fine ottobre dobbiamo avere la possibilità di vendere il nostro progetto artistico che è il cartellone in questo caso al nostro pubblico chiaramente ci sono delle formule che tu devi adottare per convincere il tuo pubblico a spendere 100 euro 50 euro con molto anticipo allora intanto l'abbiamo detto prima la qualità del progetto artistico che proponi e se tu ogni anno sei come dire hai proposto dei progetti di qualità il tuo pubblico anche se non conosce tutti gli autori i registi gli attori che proponi per l'anno successivo si fida di te è come quando tu vai a comprare un qualcosa da un negozio se è un negozio di fiducia ti fidi anche del consiglio che ti dà il commerciante che ti dice prendi questo vestito che ti calza molto meglio piuttosto che quest'altro e magari tu eri andato convinto di prendere l'altro se c'è un rapporto di fiducia e tu riesci a costruire un rapporto di fiducia con i tuoi spettatori loro si fidano di quello che li proponi anche se non lo conoscono e riesci a fare ad adottare una strategia di comunicazione di marketing che ti consente di incassare ancora prima di aver sostenuto quei costi e quindi però devi partire con molto anticipo quindi a giugno noi iniziamo già a incassare i biglietti e gli abbonamenti che riusciamo a vendere a botteghio dopodiché inizia la stagione concretamente perché iniziamo a mettere in scena gli spettacoli lì c'è tutto un altro lavoro che è quello della gestione degli spazi gestione degli spazi che sembra banale l'abbiamo accennato ieri c'è una persona che la prima persona che ti incontri quando entri in un teatro è chi sta in biglietteria noi diciamo sempre uno dei nostri come dire dei nostri decchi lo spettacolo non inizia sul palco inizia dalla biglietteria perché tu entri nel mio nel mio spazio la prima persona che incontri è chi sta in biglietteria e chi sta in biglietteria perché per noi questa cosa è importante e io penso che debba essere importante per tutti quali che fanno questo tipo di lavoro perché chi sta in biglietteria non può non sapere qual è il titolo dello spettacolo chi è il regista chi è l'autore chi sono gli attori quanto dura perché può capitare che io magari ho un impegno subito dopo lo spettacolo e ho bisogno di saperlo e non non possono saperlo in biglietteria vi posso assicurare che molto spesso non lo sa chi sta in biglietteria che tipo di spettacolo stanno proponendo quindi e soprattutto deve avere conizione di quello di cui si sta parlando perché se uno spettacolo è adatto magari a un certo tipo di età oppure no io sto andando con mio figlio mio figlio ha dieci anni ma può vedere questo spettacolo in biglietteria se ti dicono di sì e poi entro ci sono nudi in scena scene violente magari mi ha dato l'informazione sbagliata io quando esco mi cazzo quindi chi sta in biglietteria che è la prima persona che incontri questa è la qualità del lavoro che proponi tu puoi essere bravissima a spingere il tazzino e far uscire il biglietto però non sapere mai nulla di quello che viene proposto dentro la cosa che come dire alza la qualità del tuo lavoro è quello di sapere dei dettagli che fondamentalmente non ti servono per il tuo lavoro però servono per informare chi ti sta di fronte e dargli come dire tutte le informazioni che gli servono ora inizia con la biglietteria dopodiché noi abbiamo la come dire abbiamo deciso di avere un tavolo informativo di solito se voi andate in qualsiasi luogo di spettacolo trovate un posto dove ci sono le locandine i materiali informativi e basta noi invece decidiamo di avere nel nostro piano di gestione nel nostro piano organizzativo una figura che non solo come dire gestisce i materiali promozionali ma che anche faccia chiacchiere con il pubblico e soprattutto cosa che per noi è importantissima si faccia dare le informazioni quindi gli fa riempire una scheda informativa dove si fa autorizzare a mandare le comunicazioni e quindi a dire a quello spettatore che la settimana prossima c'è un altro spettacolo che dopo 15 giorni c'è un altro ancora e quindi a informarlo e potenzialmente a farlo ritornare perché se io sono qui e non ho il tuo numero di telefono o la tua mail tu magari vieni quella volta e non ci torni più magari se io ti faccio arrivare una mail con il programma della settimana successiva ci pensi e torni allora da una parte è un rapporto molto come dire diretto quindi tu hai di fronte una persona che ti dice delle cose che ti parla dello spettacolo che ti accoglie che ti fa sentire accolto in una struttura dall'altra parte è comunque un meccanismo molto automatico mi dai le tue informazioni le tue informazioni in maniera tale che io ti posso informare in qualsiasi modo in qualsiasi occasione di quello che io propongo e tu entri nella mia banca dati mi firmi l'autorizzazione rispetto alla privacy perché sapete che c'è la normativa sulla privacy e quindi io sono autorizzato a mandarti delle informative via mail o in altro modo dopodiché noi abbiamo un punto ristoro a servizio del pubblico quindi se qualcuno tra l'altro c'è anche una piccola cucina certe volte ci siamo fatti anche una mangiata con il nostro pubblico anche a mezzanotte perché abbiamo fatto anche dei progetti che duravano tutta la notte quindi a servizio del pubblico il chismet è dotato di questo grande foyer dove la gente aspetta il momento che inizi lo spettacolo a un certo punto si abbassano le luci si abbassa la musica perché abbiamo sempre un po' di musica in sottofondo si apre un portellone giallo che è in fondo al foyer si entra in questo corridoio questo corridoio che per scelta è grigio vai da una dimensione dove c'era musica confusione perché c'è gente che parlava dove c'erano colori ti vieni trasportato in un'altra dimensione sia a livello di rumori sia a livello visivo perché è tutto grigio ed entri nella sala teatrale che è dentro il famoso capannone di cui vi ho parlato da ieri entri in questo capannone ti accomodi ingradinata si spengono le luci c'è qualcuno che ti fa accomodare non sono le hostess perché noi per scelta non vogliamo le hostess sappiate che quando io mi sono occupato dell'organizzazione del festival al castello dei mondi credo sette anni fa quando c'era Mimma Gallina e Pamela Villoresi lì c'erano le hostess ad esempio gli ho chiesto voi sapete le hostess si vestono con il tagliere e i tacchi io gli ho chiesto di non mettere i tacchi perché in uno spazio teatrale se tu devi accompagnare qualcuno mentre lo spettacolo è in scena io non devo sentire i rumori dei tacchi quindi mettetevi le scappe da ginnastica perché non posso dar fastidio né all'artista e neanche al pubblico che vuole ascoltare quello che l'artista sta dicendo però banalmente quasi tutte le hostess che stanno in un teatro hanno le scarpe e quei tacchi se non c'è la mochetta a terra si sente la scarpa anzi si sente tutto il passaggio dell'hostess fino al momento in cui accompagna in bagno lo spettatore quindi c'è qualcuno che ti accoglie anche in sala ti fa accomodare se tu non riesci a trovare subito il posto perché comunque le luci sono in penombra non è illuminato a giorno ti fa accomodare si spengono le luci si chiede gentilmente al pubblico di spegnere i cellulari non ne faccio una colpa a chi lascia accessi sappiate che moltissimi di quelli che lasciano accessi soprattutto gli artisti che assistono agli spettacoli degli altri però chiediamo di spegnere i cellulari gli chiediamo in quella ora ora e mezza di non mangiare perché non è il cinema quindi se tu senti il rumore della patatina o della busta di patatina e sta disturbando tutti gli altri quindi gli chiediamo per un'ora state con noi però concentratevi su quello che vi stiamo proponendo ecco perché vi dico impegnativo non è una cosa così non stai al cinema sbracato come ci sto anch'io quando ci vado ad assistere a vedere un film e magari mi mangio il pop corn e mi bevo la coca cola lì non è così e vi dico la gradinata siccome ha 25 anni è anche un po' scomoda stiamo cercando di trovare i fondi per sostituirla detto questo assisto allo spettacolo lo spettacolo va in scena dura mediamente tra un'ora e un'ora e mezza finisce lo spettacolo non è finita la serata perché noi siccome ci teniamo alla formazione del pubblico al fatto che tu sei venendo in una cosa e qualcuno te la spieghi anche organizziamo un incontro post spettacolo tra il pubblico e la compagnia dove c'è la direzione artistica un critico letterario è due studenti dell'università che si confrontano con la compagnia e a un certo punto fanno anche da tramite con il pubblico per porgli delle domande ora dire tutto questo per spiegarvi che è vero ma non è che basta lo spettacolo bello allora se c'hai uno spettacolo bello con un nome di risonanza può darsi che basti tu spendi i tuoi soldi vedi uno spettacolo di un artista che ti piace è un nome che conosci forse basta se probabilmente io facessi uno spettacolo di Luca Argentero dovrei fare pochissima comunicazione non dovrei fare l'incontro con il pubblico potrei mettere chiunque al botteghino senza dare nessuna informazione perché il pubblico di Luca Argentero gli basta vederlo in scena e basta siccome quello che noi il nostro pubblico lo consideriamo parte del nostro progetto come se fosse una famiglia che ha non soltanto un interesse come dire di gusto ma anche proprio una passione rispetto a quello che sta facendo tutto questo contorno per quanto ci riguarda fa parte del progetto di gestione del nostro teatro cioè noi non abbiamo il teatro in altri modi o è così o il teatro non è aperto quindi sono delle cose che hanno dei costi in più rispetto a tutti gli altri ma noi decidiamo con coscienza di spendere dei soldi in più per avere più personale per avere una qualità più alta e per come dire proporre a uno spettatore una serata di un certo tipo dopodiché vi posso assicurare che non tutti gli spettacoli sono uguali e non tutti gli spettacoli possono piacere allo stesso modo quindi chiaramente può capitare che in una programmazione di 20 titoli ce ne siano due o tre che non ti sono piaciuti non è quello l'importante perché non tutti i film magari di un regista che a me piace possono piacere però è importante quello che tu gli stai proponendo il fatto che comunque tu al tuo spettatore gli stai dando un progetto di alta qualità sia a livello di ospitalità sia a livello di spettacolo che viene proposto sul palco questa è la parte dello spettacolo serale nel nostro ambito di programmazione poi c'è la parte delle pomeridiane le pomeridiane sono gli spettacoli proposti alle famiglie quindi immaginatevi la domenica pomeriggio alle 18 un centinaio di famiglie con i bimbi che vengono per far divertire i bambini allora io ho una bambina da due anni e mezzo mi rendo conto che quando sto a casa non so che cosa fargli fare cerco opportunità per da una parte farla divertire da una parte anche farla crescere con delle cose fatte bene le proposte per i bambini sono molto poche però quello che io cerco per lei è quello di fargli fare esperienze di un certo tipo quindi il kismet che fa? non fa lo spettacolo e basta attorno a tutto quello che vi abbiamo già detto costruiamo anche un percorso laboratoriale in cui il bambino finché non inizia lo spettacolo impara a fare delle cose a costruire delle cose o a disegnare delle cose o a utilizzare i colori ci sono bambini di varie fasce d'età e quindi noi gli proponiamo questo percorso che può durare in base appunto a quando arriva il bambino ma comunque noi iniziamo un'ora prima dello spettacolo il bambino si scatena perché è così cioè il bambino giustamente quando esce di casa ha bisogno di muoversi si scatena arriva in teatro vede lo spettacolo dopodiché alla fine dello spettacolo se vuole si ferma con gli artisti a farci una chiacchierata ma immaginatevi un bambino di 6 7-8 anni che si ferma a ragionare con l'artista mia figlia quando gli fecevi il Pinocchio mi disse che quello spettacolo che è mio spettacolo non era cioè avevo sbagliato quando le chiesi perché lei mi disse perché quello non era Pinocchio era un signore però ha due anni e mezzo quindi io sono cosciente del fatto che è troppo piccola una cosa importante è dire dare indicazioni ai genitori che quello spettacolo è adatto ai bambini di una determinata fascia d'età perché il genitore tende a portare i suoi figli a qualsiasi cosa sia fatta per bambini senza considerare se ha un figlio di dieci anni o se ha un bambino di tre non tutti gli spettacoli sono adatti per bambini di tre anni quindi magari un bambino di tre anni se vede la strega nella bella addormentata si spaventa glielo devi dire glielo devi dire e gli devi dire di prestare attenzione perché magari la bambina cioè mia figlia si è spaventata quando ha visto la strega nella bella addormentata che era tra l'altro un bellissimo spettacolo di una compagnia di qui vicino di Ruvo uno spettacolo che ormai a dieci anni ha girato tutta Italia un bellissimo spettacolo vi consiglio se avete l'opportunità di andare a vedere detto questo l'ultima parte della programmazione è la programmazione per le scuole noi quasi tutti i giorni a parte il sabato e la domenica apriamo il nostro teatro per le scuole quindi organizziamo un progetto adatto per le scuole scuole elementari scuole medie scuole superiori e gli proponiamo un cartellone di spettacolo che sono come dire adatti a determinate fasce d'età quindi la mattina arrivano 4-5 pullman da tutta la provincia parcheggiano entrano dentro le classi un mal di testa tremendo guardate ed esaurimento arrivano 200 ragazzi delle scuole con gli insegnanti che gridano per far stare zitti i bambini che a loro volta gridano per far stare zitte le maestre poi li tranquillizziamo li accompagniamo in questo famoso corridoio ci fermiamo e classe per classe gli diciamo che cosa sta succedendo che cosa succederà e gli diciamo un po' come funziona il mondo del teatro glielo spieghiamo chiaramente su 20 ragazzi di una classe c'è sempre uno che non ha capito e sta lì a mangiare le patatine però gli facciamo fare questo percorso in maniera molto tranquilla arrivano in sala si vedono lo spettacolo e in sala parlano con la compagnia per un'oretta quindi tra la compagnia e i ragazzi diciamo che dipende poi dagli insegnanti se sono preparati o meno quindi fanno da mediatori c'è una relazione in cui i ragazzi chiedono delle cose e gli artisti rispondono quello devo dire che è un momento quasi sempre molto divertente in cui come dire il bambino ti pone delle domande che ti spiazzano poi ci sono altri progetti alcuni di voi ad esempio sono venuti a Vite Spezzate Vite Spezzate è un progetto completamente diverso da tutto quello che vi ho descritto finora perché è un progetto su commissione praticamente la regione Puglia e l'Inail dicono noi abbiamo bisogno di fare prevenzione prevenzione rispetto al settore della sicurezza e gli infortuni sul lavoro sapete delle morti bianche a Molfetta praticamente capita una volta o almeno ci sono un sacco di incidenti di questo tipo perché Molfetta comunque ha un impianto industriale molto importante decide allora di fare questo progetto per promuovere presso i ragazzi la prevenzione e la sicurezza sul lavoro perché sui ragazzi e non sugli adulti perché voi se avete i lavoratori di domani chi ha 50 anni ha delle abitudini probabilmente da 30 anni che difficilmente si toglierà però voi questa attenzione se la mostrate da adesso probabilmente vi aiuterà per tutta la vita quindi che cosa decide di fare decide di costruire un percorso in cui oltre a uno spettacolo che è fatto su storie vere quindi commissiona il chisme di fare uno spettacolo teatrale su storie vere realmente accadute e quindi di farvi vedere in scena quello che poi è successo di cercare di descriverlo dice ai ragazzi vi dai il libro vite spezzate quelli sono dei responsabili della sicurezza sono proprio degli ispettori dell'INAIL che hanno scritto perché provengono dalle relazioni che loro hanno scritto in caso quando sono stati dei morti sul lavoro quindi da quelle relazioni alcuni ispettori hanno scritto proprio dei testi noi li abbiamo trasformati in testi teatrali e messi in scena lo spettacolo e per di più dice con i fondi perché tutto questo viene realizzato con le multe che vengono fatte alle aziende che non rispettano le normative sulla sicurezza quindi anziché buttare quei fondi vengono utilizzati per la prevenzione che cosa fa la regione dice oltre che farvi venire l'ispettore a scuola a spiegarvi come funziona oltre che farvi vedere lo spettacolo oltre che farvi darvi il testo così ve lo potete leggere a casa e tenervelo vi diciamo anche fate un progetto da presentare a questo concorso potete avere la possibilità di vincere 5-10 mila euro con un vostro progetto artistico quindi che sia un video che sia una performance teatrale che sia uno scritto che sia un fumetto ci sono una serie di sezioni ora non le ricordo tutte e quindi le classi si candidano se vincono non è che vincono loro 5 mila euro le vince la scuola che però la scuola può investire su un'attrezzatura o una qualsiasi cosa all'interno della scuola questo ad esempio è un esempio di progetto completamente slegato dal mondo del teatro ma che poi si collega al fatto che tu hai utilizzato delle tue competenze su una materia che di solito non viene mai toccata che è quella cioè immaginatevi quanto sia complesso portare in scena uno spettacolo sulle morti sul lavoro su dei testi scritti dagli ispettori dell'INAIL quindi uno deve saper spendere le proprie competenze in vari ambiti vi ho detto della produzione vi ho detto della programmazione l'ultima è la formazione prima ne stavo parlando con lei formazione del pubblico cioè saper come dire spiegare a un ragazzo o un adulto che si vuole approcciare al mondo del teatro che cosa significa e che cos'è il mondo del teatro ci sono vari livelli e varie dimensioni possiamo parlare della scrittura possiamo parlare della drammaturgia possiamo parlare dell'essere in scena allora la maggior parte dei genitori perché poi i genitori sono quelli come dire meno gestibili credono che tu fai un laboratorio di teatro finito con il laboratorio sei un attore sei un attore dal giorno dopo puoi andare a Hollywood perché è così che funziona così come uno manda il suo figlio alla scuola di calcio perché spera che quello debba andare alla Juventus a giocare non è così tu stai come dire occupando il tuo tempo libero in un modo diverso da qualcun altro che magari decide di passare un'ora alla settimana in palestra quindi quello che noi gli proponiamo è un percorso formativo o perché quello che vi ho descritto prima che ho fatto io in prima persona perché voglio approcciarmi a quel mondo o perché voglio approcciarmi al mondo della drammaturgia o semplicemente noi affianchiamo i nostri spettatori nella visione degli spettacoli in maniera critica in forma critica quindi ci sono diverse attività di formazione il senso è quello di formare lo spettatore lo facciamo dei bambini agli adulti agli anziani poi ci sono anche laboratori come dire di costruzione di scenografie o di qualsiasi altro tipo o anche didattici soprattutto con le fasce d'età più dei più piccoli tutto questo è detto così sembra molto cioè non sembra chissà cosa sappiate che significano giornate e giornate lavorative di tantissime persone perché soltanto il fatto che apriamo il sabato è la domenica almeno 5-6 ore il sabato 5-6 ore è la domenica e gli uffici sono aperti tutti i giorni e ci dividiamo i compiti in maniera molto organizzata quindi c'è l'ufficio produzione che si occupa delle produzioni teatrali poi c'è l'ufficio distribuzione che si occupa di distribuire i nostri progetti teatrali in tutta Italia e in tutto il mondo poi c'è un ufficio comunicazione che lavora trasversalmente sulle nostre produzioni sulle nostre stagioni sui nostri cartelloni e con le scuole poi c'è l'ufficio amministrativo che è diviso tra contabilità e finanza e pratiche del personale perché quando devi gestire tra attori tecnici il personale fisso e scritturato quando hai 5-6 compagnie ti capita di arrivare alcuni anni a gestire anche 150-160 persone quindi ci vuole qualcuno che sappia gestire le pratiche del personale rispetto a tutte le cose che vi dicevo ieri nella contrattualistica e che sia un punto di riferimento poi per gli artisti che lavorano con te che se hanno un problema ti chiamano e gli dicono senti io ho bisogno che tu mi risolva questa cosa e lui lavora in questo senso poi c'è l'ufficio artistico lo staff artistico che è quello fatto dalla direzione artistica e i suoi collaboratori che costruiscono i progetti che ci siamo detti prima e che affiancano la direzione generale per fare e portare a termine tutti i progetti l'ultima cosa è la direzione generale che insieme a una parte amministrativa del teatro trova anche i fondi per poter fare tutto o stabilisce le strategie per poter fare tutto quello che ci siamo detti quindi i costi dei biglietti i tempi di prevendita le modalità di comunicazione insieme allo staff della comunicazione le scontistiche rispetto ai gruppi convenzionati e tutto quant'altro quello che concerne questa materia ce l'ho fatta a stare nei 25 minuti si si sei arrivato a 25 minuti ah vedi no perché voi andavate via mi dispiace io volevo ringraziare tutti per la vostra presenza qui per essere venuti ieri anche all'altra classe che era venuta all'altro seminario Vincenzo Cipriano del Kismet che poi adesso da dicembre è diventato il direttore generale dei teatri del consorzio del consorzio la roba tecnica e ringrazio anche il secondo seminario che abbiamo avuto con Manlio Castagna che era il vice direttore ed è il vice direttore artistico del Giffone Film Festival Vito Palumbo regista e sceneggiatore che ha prodotto un film a Hollywood e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito anche in diretta streaming e vi suggeriamo di seguirci su tutti i mezzi di comunicazione del teatro sospeso sia il sito la pagina Facebook Twitter Google tanto se la vedo Annalisa quindi potete scrivere quello che volete non la seguo io sta parte abbiamo altri progetti e ovviamente con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo li promuoveremo anche tramite le mail che ci avete lasciato vi manderemo le comunicazioni e continueremo sicuramente ad avvisare la scuola su altri progetti che abbiamo e a collaborare grazie mille grazie soprattutto al laboratorio dal basso che ci ha permesso di realizzare questa cosa qui di invitare gli esperti a tenere questi seminari l'Arti che è l'agenzia che ha gestito tutto e le altre partnership che ci hanno sostenuto in questo progetto come fotogrammi l'officina di San Domenico e tutti le altre che abbiamo già citato ogni volta che abbiamo aperto il convegno grazie mille la sezione A e B la sezione A e B della scuola il Colasanto altrimenti non vengono a vedere i sospettati e noi non lo dobbiamo dire grazie a tutti e alla prossima grazie grazie a tutti